Ciao bello! Biscotto? Sì! Biscotto? Eh, lui l'ho trovato giù casa mia. Stava per strada giù casa mia. Eh, lo sai che ci stanno i biscottini qui. È vero? Seduto? 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 Bravissimo! Ultimo! Altro? Eh sì, tanto sono gli ultimi. Eh? Seduto? Bravo! Bravo! Che tipetto! Bravo Totò! Bravissimo! Bravissimo! Tu scatta voi, dopo le miei, dopo le miei. Sì, sì. Stanno anche...